È scattato in tutta la Toscana il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Nel periodo a rischio incendi boschivi, dunque sino al prossimo 31 agosto, è poi vietata qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in braceri e barbecue. Anche in questi casi andranno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale. La mancata osservanza del divieto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni in materia. La Regione potrà comunque prolungare il periodo di divieto assoluto anche per un singolo territorio comunale in base all'indice di pericolosità per lo sviluppo di incendi. Durante il periodo a rischio è disponibile sulla home page regionale un bollettino di informazione per la cittadinanza predisposto secondo un format condiviso a livello nazionale che consente di visualizzare in maniera semplice ed immediata su una scala a quattro colori il livello di rischio giornaliero per lo sviluppo e la propagazione di incendio boschivo. Oltre al monitoraggio del rischio è prevista anche una sezione che evidenzia i comportamenti corretti che ciascuno deve tenere sia per evitare l'innesco di un incendio forestale che per segnalare un avvistamento chiunque si trovasse nei pressi di un focolaio di incendio boschivo può segnalarlo al numero unico di emergenza 112 o al numero verde della sala operativa regionale antincendi boschivi.